La cultura del cibo made in Italy sotto l'ombrellone. Olio, tartufo, biscotti, pasta e ventricina sono tra i tanti prodotti molisani, oggi anche tipici da spiaggia. L'iniziativa, promossa dal sindacato italiano Balneari, aderente a Fipe Conf Commercio su tutto il territorio nazionale, è stata patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, Forestali e del Turismo. Anche in Molise, in riva al mare, la promozione delle tipicità. Torna per la seconda edizione, quest'anno è saltata l'anno scorso a causa del Covid, un binomio, il cibo e il mare. L'Italia è famosa per queste due cose, quindi perché non abbinarle, cercare di sponsorizzare e farci pubblicità reciproca. La seconda edizione è stato siglato un accordo a livello nazionale anche con il Ministero, infatti proprio ieri il Presidente nazionale Capacchione ha incontrato il sottosegretario Centinaio all'agricoltura appunto per consolidare questo binomio che già va avanti per la seconda stagione. Qui a Termoli ovviamente i prodotti tipici molisani. Sì, a Termoli come sulla costa molisana, i prodotti tipici molisani perché il Molise, oltre a essere sicuramente mare, 32 chilometri di mare pulito, c'è l'entroterra che comunque offre numerosi prodotti da scoprire, infatti come siamo una piccola regione molti non ci conoscono e quindi perché no far conoscere oltre alle bellezze della spiaggia anche quelle dell'entroterra, quindi sia sui vari settori agroalimentari, quindi l'olio, il vino, la panificazione e a tante altre buonissime cose. La vacanza come occasione di conoscenza dei luoghi che associano alla bellezza del nostro litorale, la degustazione di specialità locali. Lo scopo è proprio quello di far conoscere ai turisti che vengono da altre regioni o stranieri cosa si può degustare quindi se ci si siede a tavola nei nostri ristoranti della costa o dell'entroterra oppure perché no andare alla ricerca di quei prodotti di nicchia che a livello commerciale, industriale purtroppo non si trovano. Sapori che inebriano e che soddisfano il palato e di quanti il Molise vogliono scoprirlo fino in fondo. Signora lei da dove venite? Da Milano. E qui in vacanza? Sì perché mio marito è nato qui e quindi veniamo sempre qui perché oltre per un discorso familiare ci piace moltissimo. Oggi sta assaggiando i prodotti tipici locali? Assolutamente e sono deliziosi. Questa è un'iniziativa in spiaggia, un'iniziativa nuova, come la trova? Una ottima iniziativa perché tutto quello che può portare turismo e far conoscere le bellissime qualità del Molise è ben accetto. Io originariamente sono abruzzese però vivo a Foggia, sono venuta qui per il mare. Veniamo spesso anche d'inverno, fare passeggiate ci piace. Trovo che siano ottimi e poi mi piace molto l'iniziativa, davvero molto interessante.